Bella, innovativa, pur nel segno della tradizione, ma anche costosa, minimo 90.479 euro. Un mito per molti, un'auto da sogno per quasi tutti. E la nuova Porsche Carrera 911, presentata ufficialmente nello scorso fine settimana anche a Bari. Per il battesimo pugliese dell'ultima nata della casa di Stoccarda è stata scelta una cornice d'eccezione come il Teatro Petruzzelli. Una della musica di Nicolo Cattaneo e condotta da Antonio Stornaiolo. La 911 racchiude performance ed efficienza, sportività e praticità quotidiana. Non può che piacere anche a chi non è appassionato di auto sportive. Siamo qui a lanciare la settima generazione della 911, una storia che ha presentato un'automobile sempre diversa ma sempre uguale. Diversa nel senso che tecnologia e design si sono migliorati in quasi 50 anni di vita del modello 911 e dal punto di vista della coerenza e design invece c'è rimasto sempre un forte richiamo al tipico DNA delle versioni sportive del mondo Porsche. Certo parlare di una vettura che nell'allestimento più alto supera i 105.000 euro di costo può apparire sarcastico in questo periodo di crisi. Anche in Puglia però nonostante le difficoltà economiche c'è chi ha già prenotato questo gioiello. Permetterselo possono essere in tanti, solo che oggi il target di riferimento di Porsche si è vestito di prudenza per cui ha rallentato i suoi desideri del possesso di una Porsche in attesa che ci sia chiarezza nell'aspetto socio-economico italiano. Quante prenotazioni avete avuto? Noi abbiamo già fatto sei prenotazioni prima del lancio della vettura, ma sono clienti che la Porsche ce l'hanno a posto dei globuli rossi.